Hai visto? Le rane? Le rane stanno saltando, adesso facciamo le mani. Le mani? Sì, le mani bianche. Le mani? Cambiamo il pincel. E adesso? Adesso facciamo l'altra manita. La rotta? Claro. Stanno saltando? Saltando? Hai visto? Perché? Perché? Perché salta la rana. Mama e papà. Claro, e questo lo trasforma in pezzolini di carta, in cartas di giornale. Vedi che lui è un pezzolino di carta? E questo? Le trasforma tutte le rane. E questo pezzi? Un pezzolino di carta. È il domador del circo. Non si vede? Non si vedono? Non si vedono quelli? Non si vedono? Sì. Non si vedono quelli? Dopo le facciamo l'occhio? Non vogliono le carta. Mirai, facciamo l'una del blanco. Le cappe? Sì. Le mani? le facciamo lunares blancos lunares? si al traje del domador eh? eh? mamma, si tengo la lérica bravo eh? eh mamma te gusta el traje del domador? eh? te gusta el traje del domador del circo? no, piche de amor no me muevan la mesa no, piche no, piche no, por qué? porque no, no piche no piche